Queste qua non sono chiavi e basta, questi sono pezzi di storia, di vita delle persone. Storie di vita, storie che oggi raccontano di una chiusura forzata che sta mettendo a dura prova tante realtà anche del territorio aretino, dai ristoratori ai baristi a tutti coloro che fino al primo di giugno non potranno riaprire e si dovranno poi attenere a tutte le misure di sicurezza per evitare il contagio da coronavirus. Sicuramente la riapertura con questi criteri non va bene perché significa condannarci, condannarci all'oblio, condannarci alla chiusura, condannare tutto il mondo della ristorazione ma credetemi tutto l'indotto che c'è dietro perché non è soltanto il mondo della ristorazione, è tutto un insieme di cose per cui veramente condannare la gente a niente, ad andare per strada e quindi il governo non è in linea con la realtà quotidiana. Allora domanda, andreste in un ristorante avendo le persone che vi accolgono tutti i bardati che vi misurano la febbre? Non è possibile, cioè veramente è un momento di convivio, di socialità, è un momento per stare insieme, allora se io devo far questo e avere, firmare autodichiarazioni, autocertificazioni. Risorgiamo Italia, la manifestazione voluta dal movimento Imprese e Ospitalità che raccoglie circa 180.000 imprese e ristoratori toscani, arriva anche ad Arezzo e di fronte al palazzo comunale due ristoratori aretini portano nelle mani del sindaco Alessandro Ghinelli cento chiavi di altrettanti esercizi commerciali. Questa manifestazione non ha niente a che vedere con la manifestazione del 4 maggio, quella è stata decisa da altre persone. Ovviamente io sostengo tutte le persone che in questo momento sono arrabbiate, deluse e incavolate. Considerate che questa è una piccola parte delle chiavi di tutta la regione toscana, perché ci sono più o meno intorno ai 6-7.000 chiavi. Quindi sono 6-7.000 attività, 6-7.000 pezzi di storia, di persone, del quotidiano, di gente che la notte non dorme. Quindi noi non ci vogliamo assolutamente prendere dei rischi, quindi non è che siamo degli incoscienti, non siamo persone che stiamo qui per fare casino o per fare chissà che cosa. Vogliamo semplicemente far capire a tutti quanti che questa situazione non è sostenibile. Noi vogliamo indietro quello che abbiamo dato fino adesso, perché allora l'IRPEF e allora i contributi, e allora parliamo anche della cassa integrazione per i dipendenti. C'è gente che è due mesi che non prende lo stipendio. Il primo cittadino ha preferito che la consegna delle chiavi avvenisse in forma privata e non di fronte alle telecamere. I due ristoratori hanno poi salito le scale, raggiunto il sindaco e consegnato le chiavi. Questo l'impegno. L'impegno del sindaco di Arezzo è di vagliare quelle che sono le nostre proposte, che ovviamente adesso dovrà leggere, perché noi stamani abbiamo parlato di getto, abbiamo parlato col cuore, però ci sono delle cose molto concrete che sono all'interno del programma che noi abbiamo consegnato al sindaco. Quindi adesso magari lui si prenderà il suo tempo e speriamo che il tempo sia abbastanza stretto, perché qui di tempo ce n'è rimasto poco. Vedete che non è soltanto noi con la partita IVA e noi con il negozio o con l'attività che si dica, ma è tutto quello che c'è dietro. C'è tutto quello che c'è dietro e quindi le vite in gioco sono tante. Poi vi voglio precisare una cosa. Se noi chiudiamo e non paghiamo le tasse, mi spiegate le pensioni come vanno pagate, mi spiegate gli stipendi dei vigili urbani piuttosto che dei pubblici ufficiali come vanno pagate, mi spiegate come vanno pagate tutto quello che ne deriva dal nostro versare i contributi, me lo spiegate?